GF VIP, Nikita Pelizzone e Matteo Diamante, amore fine, il gesto che scatena il gossip. Nikita Pelizzone, vincitrice dell'ultima edizione del GF VIP, ha ricevuto un gesto romantico che l'ha lasciata senza parole, rose e rosse da parte del suo ex fidanzato. Matteo Diamante. La vincitrice del GF VIP ha sempre raccontato che negli anni passati insieme a Matteo sono stati un mix di diverse emozioni. C'è sempre stata molta passione fisica e anche molto trasporto mentale. Con il tempo però, quel trasporto è stato messo sempre più in discussione dai normali problemi di coppia, portandoli così a lasciarsi definitivamente fino a non parlarsi. E ora, cosa sta succedendo? Andiamo a scoprirlo. Le rose sono i fiori dell'amore, simbolo di un sentimento ardente e sono ottime per sedurre. E Nikita lo sa bene, d'altronte, la modella si è sempre mostrata greta del fatto di aver incontrato il suo ex fidanzato dentro la casa del GF VIP. Tant'è che è stato il primo a tiffare per lei durante la finale del GF VIP. Ma quindi, ora, sorge spontaneo chiedersi, sarà di nuovo amore tra Nikita e Matteo? Non ci resta che aspettare. Se sorroze. E che si zici che sto in Ford, la come comfort, in treaba asta lui e un loc de comfort, rigor, ci-o morto? Sunt un crucișetor, lanserachete aerosol, inca de când el era broke si se usa de aerosol. De când avea mall, de când nu știai ce un niscol, de când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, suno pe Irina Nistor, vă întâlniți in tristor, la zero grade viscol. Nu tac nici stins mort, o să m'auzi prin sol, transpir hip-hop prin pori, bile mari zi-mi tor. Că știi că după trimi ciocanul mare, înspre cer și dau jos carul mare, astrologia-l treaba ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic, jos pătescu, jos ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul, de când mai toți ziceau.